sì sì tra l'altro punto mentre ero in diretto c'è un doppio schermo in una facciamo la mia diretta tra guardavo telecronaca della della viola e devo dire sì peccato per quel 2 a 1 diciamo anche edo che va un po a creare non dico preoccupazione però comunque qualche diciamo meno tranquillità per il passaggio perché c'è la fine potevi andare oggi poteva finire a zero così al ritorno stavi tranquillo invece sì sì siamo dimenticati un po di scendere in campo nel secondo tempo ecco eh sì parecchio secondo me addirittura c'è a un certo punto ho avuto paura ho detto no vuoi dire che adesso buttano proprio via la vittoria però ma questi sono i loro giocatori quello non ne conosco mezzo ma incredibile comunque dai raga che livello è arrivato il calcio italiano andiamo a vedere cesta di centralità beh c'entra comunque la fiorentina secondo me l'anno scorso edo è una di quelle che ha proposto il calcio migliore insieme al milan e sprazzi di inter e napoli forse e comunque finita solo 2 a 1 finita 2 a 1 con questi qua è cazzo sì 13 13 3 a 5 però solo 5 in porta contro 3 7 tiri fuori in realtà non so se siete d'accordo è stata cioè ovviamente la fiorentina ha avuto al me sembrava di più del 55 adesso sono un po sorpreso a vedere 55 mi sembrava di più il possesso pala mi sembrate in controllo a parte quei 20 boh 25 minuti non lo so allora beh ci sono stati alcuni momenti in cui il gioco si è un po sporcato nel senso che come dicevo anche edo non è proprio una squadraccia che comunque poi è un po più avanti di preparazione se non erro sì ha fatto pure un preliminare in più di conferenze ha iniziato il campionato lo stesso giorno nostro però due tre partite in più ce le ha sicuramente ne ha perse poche in questa stagione ho visto tipo da gennaio ne ha persi tre oggi oggi c'era il tuo collega fiorentino che nominava anche le squadre contro le quali ha giocato le ultime due partite se vuoi nominarle tu io non so neanche vabbè ma lui ha contato le presenze totali europee della fiorentina cioè cose da spettacolo da riprendere tu hai visto quell'articolo qua del quale stiamo parlando è una roba da carmi diciamo da carmi special no però stasera e adesso intanto che manfa trova l'articolo c'era sottil che a un primo tempo sembrava ronaldino cioè quello l'anno sottil ma pure contro la cremonese veramente tanta roba mentre icone c'è da fare anche un punto sui con e perché era stato preso a gennaio per fare fuoco e fiamme io sono mi piace era partito anche benino c'è comunque era partito benino a delle ottime qualità però se gioca così sottil la rossa titolare tridenti titolare è sottil jovic e gonzalez adesso possiamo e lo hai detto che sottile nuovo chiesa secondo te no no ho detto meglio ho detto meglio ma secondo te tu che insomma la segui c'è un po del tronista sottile sì sì sottile è un chad noi confrontarli non lo so perché chiesa esplosione quando tipo è una via di mezzo edo tra il maranza e il fighetto diciamo no indicativamente una personalità c'è una divinità un credono c'è romano giga sottil sì no e il paragone ancora presto però a firenze sicuramente su quella fascia ci può ricordare vagamente un giovane italiano come chiesa e i numeri allora i numeri ce li ha a parte il fatto che adesso sembri un po un tronista tipo questo no io l'ho preso il fanta io l'ho preso esattamente un certo sottil c'è la stessa mascella volevo chiedere volevo chiedere a carmi come la vedi in ottica fanta questa cosa edo ha detto che sarà il titolare secondo lui io se ho capito un po italiano secondo me a lui li piacciono icone e gonzalez ma non li piacciono insieme io penso di aver capito due mangi esatto non sono quale il discorso italiano gli piace la fluidità cioè no avere un esterno a piede invertito in entrambe le fasce e secondo me gli crea appunto questa sorta di fluidità sia nel cross che nel tripling quindi è più facile per sia sottile ma anche ad esempio saponare per dirla tutta avere magari più spazio sulla parte sinistra e icone invece magari alternarsi sulla destra tante che addirittura ha provato pure qua me ma poi a volte da un lato saponare dall'anno scorso metteva saponare gonzalez perché infatti io ti dico un mese fa o così ma fra e poi coprirla la sedia per favore quella scritta che c'è dietro che mi dà mi dà fastidio per lino sono che è rovinato la sedia veramente lino sono che non mi ha ancora scritto come aggiustarla stava vedo era una maglia della fiorentina tra l'altro che mi ha fatti sa vici che adesso che quello dell'atletico si si chiedono dell'infortunio carmi ti ho interrotto che dove finire poi volevo fa sta domanda no allora a livello infortuni a parte che so sempre tipo come dire dietro l'angolo per qualsiasi giocatore poi jack è un giocatore che come dire ogni tanto qualche acciacchetto ecco c'era quanti andiamo l'avventura trovo subito ma sarà sui 30 32 anni 32 anni 32 89 89 lo consigli dopo andiamo anche sul fantacalcio è che vi spieghiamo il nostro camilo consigli al fanta buonaventura o si trova l'altro nella maggior parte delle aste viene preso anche molto poco perché tipo prima vanno via quelli più costosi ma quindi perché slot è un quinto quarto slot hai studiato per l'asta che dobbiamo fare certo fredeo quest'anno mi sono visto tutti i video di carmi sono anche il quinto slot colore rosso ti dico solo questo ma se farai l'asta in base ai video di carmi te la facciamo contro poi mi sembra vito la vita mi sono preso qualche volta mi sembra meglio di niente tra l'altro buonaventura guadagna molti punti al mantra perché c'è due o tre ruoli giusto al mantra certo al mantra è più più utile utilizzabile c'è tre ruoli sì poi ti dico dipende dal numero dei partecipanti non c'è nel senso di una lega a 10 o meno dopo utilizzare titolarissimo nella tua formazione che è un giocatore che si propone molto in avanti ma è comunque questo qua questo ragionamento ci fa pensare al fatto che la fiorentina ha molte scelte quest'anno c'è deve fare due competizioni ma le scelte ce le ha ora non si parla qualcosa non so se partite saranno fondamentali per il mercato nel senso vedo io firmerei è vero arriva barack molto probabilmente non firmerei soprattutto perché non 23 nessuno se non va via nessuno il rinnovo di milenkovic è stato ma scusa ma l'amico tuo perché non sta giocando ed si è fatto male poi era troppo semplice vincere le partite ma chi è chi è il pepe igor nuovo break arrivo la cover ma intanto ho ritrovato l'articolo di targhetti del grande targhetti e carmen allora lui dice aspetta vediamo se me ricordo 2002 erano i giorni della fiorentina senza europa 203 erano le presenze complessive di tutta la rosa in europa che hanno fatto c'è tutti 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 e 32 che cazzo a 32 erano i secondi che la cremonese aveva passato nel secondo tempo con la palla tra i piedi nella metà campo questa tra l'altro non la può sapere nessuno no perché li ha contati ma non è capito però dico non è un matto dicono non c'è allora ora ora che ci penso si può anche fare diciamo con qualche piattaforma di analisi si può ricavare facilmente questo queste dati però andato lì a cercare mi sembra una cosa cioè ringrazio poco far pancio che mi ha utilizzato come metro ormai di paragone tra la malattia statistica questa da malato vero e calmi fare una roba del genere cioè oggettivamente particolare diciamo come cosa stavo dicendo stasera sono da prendere delle slide anche quelle particolari dicono che sia uscito una bomba di laudisa il psg in italia per scrignano ha formalizzato l'offerta a 60 ma penso abbia messa su gazzetta sul sito vado a cercare vado a cercare perché usi instagram laudisa a questo livello qua dove l'avete letto ragazzi edo notizie di zurkowski chiedono edo si zurkowski piace a italiano però sembrerebbe che per ora non si stia ambientando nel nel suo nelle sue idee di gioco quindi lo stanno ancora valutando non è certo che rimanga ecco qua ecco qua ormai vedo per barak però penso che barak non c'entri niente con zurkowski ecco qua ecco qua si riprova non ha capito finisci un attimo hai detto che si dice che potrebbero potrebbero utilizzarlo per arrivare a bairami però come ho detto piace tanto italiano ma deve un po trovare intesa sicuro sei sicuro che gli piace tanto ragazzi bairami per me che carmi che fascia è bairami scusa no se parliamo di bairami una cosa bairami all'empoli tra l'altro vale un tot alla fiorentina vale una diciamo diversamente perché la cosa che ti gioca da trequartista un'altra che gioca a mezzava a prescindere poi dalla propensione offensiva perché comunque nella viola avrebbe ancora perché saponara giocava potrebbe giocare anche tipo saponara secondo me no credo più che altro gli faccia fare una sorta di mezza avanzata perché comunque tanto la fiorentina gioca nella metà campo avversaria va spesso quindi alla fine il fatto di avere un giocatore comunque offensivo che ti parla mezzala non è un grosso problema è chiaro che poi però gli altri se devo fare un mazzo tanto in fase di interdizione terzo slot l'ha messo comunque tanto la fiorentina in difesa perché ne abbiamo due ovvero igor e milenkovich ma poi con martinez quarta e nastasic per me non è un giocatore c'è veramente da aver paura a me il primo tempo ogni passaggio di nastasic era veramente un infarto martinez quarta è buono dai ma lo so è da due anni che ci dicono che è buono e lo dobbiamo recuperare recuperare mentalmente da due anni che lo aspettiamo a una certa voglio dire la fiorentina che quest'anno ha degli obiettivi non si può permettere di aspettare un difensore come martinez quarta un conto aspettare un attaccante non fai gol un conto aspettare un difensore che te li fa subire contro la cremonese rischiavamo di perderla non di pareggiarla di perderla perché si stava perdendo l'uomo negli elets c'è ci stava il pallonetto sbagliato non mi ricordo di chi facciamo la formazione della fiorentina facciamo la formazione della fiorentina voglio la formazione di teora così ci allacciamo anche al fanta l'inter mi fa schifo mi fa pena messi messi ma chi c'è ma ha fumato ragazzi ma che fumato ma no ma anche i miei genitori ormai mi guardano fumato no non fumo allora vabbè non c'è niente di male comunque adesso ricordiamo come bere un bicchiere di vino dai su adesso mezzali chi mettiamo raga oggi è stato curioso perché hanno messo insieme sia amrabat che mandragora che di solito nella gerarchia in realtà o gioca uno gioca l'altro però comunque in una rosa ideale insieme non stanno tu che dici libero la chat che voglio riparere carmi tu che dici buonaventura lo confermiamo ma dipende che arriva per ora io addirittura so che l'italiano per lo preferisce proprio anche a quindi jack finché non arriva ora barack vedremo appunto project ad oggi è titolare e dall è l'altro chi mettiamo l'altra mezzala io metterei proprio un jack da quella parte cioè a destra se io mentre io metterei barack di lì ragazzi dai tanto arrivano neanche e qui se arriva barack giocherà probabilmente non è un po sbilanciata così ragazzi a parte il macino ma guarda barack l'ha fatto quel ruolo mettiamo lo mettiamo dicono mandragora se al posto di amrabat sì no c'è se gioca ed o carmin c'è gioca chi ama barbari basi non è comandare ancora un'avventura devi mettere per forza amrabat ma secondo me ci può stare mandragola lì in mezzo cioè il senso a me questo centrocampo titolare nel senso per me è o mandragora o amrabat mandragora può fare anche quello che ha fatto oggi ovvero insieme ad amrabat però il titolare lui e il ruolo è lo stesso quindi idealmente partono così poi sicuramente durante la partita può decidere di inserire mandragora come è successo oggi io quindi sperando arrivi barack però di solito oggi ad esempio ha giocato malè buonaventura secondo me giocherà ma lei oggi non mi è piaciuto edo neanche a me per mamma mia però ragazzi dobbiamo distinguere edoardo fai un'altra battuta così e ti caccio fuori eh male 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 hai fatto pensare adesso non era in malafede ho detto male male dai grandissimo ma no cioè questo è un commento da instagram no così bella che non l'avevo questo bruttissimo allora andiamo avanti no scusate prima che diamo la parola e finisca più affidabili da quelli che utilizza per turnover no e poi ci sono due nomi carmi che non ci sono qua mandragora che dicono tutti che gioca lui e castrovilli che doveva essere castrovilli ma castrovilli ma castrovilli ragazzi non ci sta perché è rotto no vabbè non utilizzerà e soprattutto chiariamo mandragora scuola juve metti i piedi in testa da ambrabat punto poi oh sono d'accordo che metro di paragonia ha una sua idea castrovilli scuola bari un italiano guarda voglio l'ortelli serio con italiano ambrabat è più utile perché ha una visione di gioco e un poco palla morti mandragora non ancora secondo me bisogna dare fiducia mandragora farlo giocare perché in mezzo a due esperti perché bonaventura comunque c'è la sua esperienza e barack comunque di spessore che non è mandragora potrebbe crescere bene e diventare un futuro titolare di questa fiorentina che gli faccio un complimento gioca davvero bene i complimenti di luca ho sempre ma sta scherzando dai per favore e qua abbiamo tante scelte era partito così bene con castrovilli non sa giocare a calcio che si è perso sicuramente in punta il serbo giugno 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 mettiamo il serbo che ha vinto la champions league perché no mettiamo jovic è sempre un serbo c'è qui jovic e allora scegliamo jovic su su cabral l'unica pecca l'ho visto con qualche chilo in più edo io però secondo me no jovic non sta al 100% si vede gli manca quello scatto in più è ancora lento è ancora macchinoso lo vedo anch'io però insomma è macchinoso e segna almeno la prima è successo così pensa se sta in forma ma com'è edo com'è a scivolare jovic scivola bene non ha quella qualità segnali scivolata gliela devi mettere lì perché se la metti più avanti non scivola quindi devi stare proprio adesso adesso c'è da litigare su sulle ali perché ce n'ha tante ricordiamole nico gonzale sicone saponara sottil chi altro non so scorda di qualcuno no nico gonzale si è fortissimo ragazzi nico gonzale nico gonzale si ma siamo a me che stanno considerando quinto lo stanno valutando come quinto anche se è quasi fuori ruolo però le qualità secondo me per essere il quinto e dare una scossa alla partita secondo me ce le ha i film mi piace un'idea io a destra se almeno non esiste discussione su nico gonzale a destra che tra l'altro arrivò a firenze come mancino che giocava a sinistra non sapevo si potesse condividere ma e beh dici una schermata di internet manfredi una cosa secondo me che può fare infatti spesso è non sostituire magari nico gonzale se alcune partite importanti ma spostarlo a sinistra inserendo icone a destra cioè inserendo i tuoi due i tuoi due consigliati chi sono carmi più più degli altri nico gonzale anche se purtroppo alfante è stato attaccante a differenza degli altri non questo c'è nicolás se tu utilizzi si magari non con la z ecco la z c'era ulp a eccolo ecco ce l'abbiamo eccola tra l'altro cosa è quando riguarda soli iori sovira rigorista sottile costa due lire quanta non diciamo non te lo rilanciano tanto quindi ce sta eccolo qua icone è diciamo un buon potenziale però difficile da gestire sì ma icone è partito bene poi si è perso lì dai ma come è partito bene hanno fatto due partite quando si è perso è partito bene quando è arrivato vabbè a gesti stasera ha bevuto sono a stemio sono a stemio vabbè sei a stemio non fumi no 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 non ho detto questo ha detto solo che a stemio sono a stemio ha detto questo allora questa è la fiorentina più o meno si arriva a bara faina per favore continua a visitare i fantastici paesaggi spagnoli che tu tanto ami puoi venire a rubare i soldi in italia dai per favore fai un giro andiamo avanti ce l'ha con te edo eh sì ma lo capisco l'invidia è una brutta bestia questa è la fiorentina è comunque un sentimento l'invidia se viene bara ci stanno tante scelte icone mandragora ma poi io dico ma tu edo faina cioè sei venuto un giorno c'era Gianni Bianco hai preso tre schiaffi sei andato a casa l'altro giorno sei venuto c'era l'asso di Roma hai preso tre schiaffi sei andato a casa il giorno dopo è venuto schiera che rompi i coglioni dall'inizio del mercato ti sei cagato in mano che l'ho detto all'una è peggio di prendersi tre schiaffi vai a rubare in Spagna per favore scusate no perché poi fa anche il fenomeno questo qua dai su posso dire che Andre questa fiorentina a parte gli scherzi mi piace tanto anche per come gioca poi la rosa non è per niente male secondo me e qui mi sbilancio un ciccinino ma neanche troppo può ambire tranquillamente alla sesta sesta posizione vabbè ma che cazzo di pronostico pensavo stesso facendo avevo paura avevo paura di sesta e quarto posto no perché adesso mi è arrivata settima l'anno scorso mi sembra il minimo che debba ambire al sesto c'è un po' di incoerenza perché poi facciamo la classifica e poi si ritrovano Atalanta Roma Lazio Napoli e Fiorentina tutti tra quinto e sesto posto scusami contando che tra le prime quattro ci sono Juve Inter e Milan di diritto perché ci vanno perché se non vanno è la crisi del calcio italiano se non vanno c'è crolla la mafia del calcio italiano no 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 ci dissociano crolla la cosa crolla era una cosa era una cosa simbolica vai vai avanti si è appena tornato vabbè si è capito dai voleva dire il dai ha detto la mafia per dire insomma per rendere l'idea si è appena tornato chi comanda se ne va chi comanda Luca vai avanti non si preoccupi tra l'altro è la prima sera che lo vedo sano praticamente cioè che no sano nel senso che ci sei che stai facendo io sono d'accordo con Luca io lo vedo settimo la Fiorentina si no ma lui ha detto può ambire cioè pensavamo dicessi l'anno scorso la Fiorentina è arrivata a meno 1 dalla Roma a meno 2 dalla Lazio che gli hanno dato quel ruolo in fuorigioco ricordiamolo quindi stiamo parlando proprio del nulla nel quarto posto consideri una Roma che perché la Roma deve arrivare quarta siamo sinceri perché se la Roma non arriva tra le prime quattro è un fallimento dopo il mercato che ha fatto stasera c'è stasera c'è in questi giorni ho rivalutato il Napoli però in quell'ottica allora il Napoli io non voglio essere troppo cattivo però il Napoli pecca sulla mentalità la mentalità del Napoli è paragonabile a quella della Cremonese nel senso che loro gioca anche quella della Roma la Roma c'è Giuseppe Mourinho che comunque cioè guarda che l'allenatore l'allenatore anche nella squadra io gioco a calcio sono molto molto forte l'allenatore ah si è convocato per il torneo degli autogol allora ma sei a Milano sei a Milano il quattro vabbè è di Como arriverà a Milano cazzo cioè sei a Como e allora viene a Milano la mattina la mattina ma tu sai giocare a calcio sei forte ha detto che è forte ha detto che è forte ha detto che non hai capito io da una pista le ho messi non hai capito però viene in cielo a dimostrare a posto il quattro allora sono a Milano posso venire quindi poi io ti dico questo è Napoli allora parlando seriamente questo è Napoli perché Don Belè è un bel acquisto è molto è bravo ma hai cambiato casa che ieri eri in una catapecchia siamo abituati a vederti in quella casa lì in montagna allora ieri ieri ero con i miei amici oggi sono con i miei amici e sono su in Trentino in un appartamento infatti ho preso l'unico punto della casa dove prende mi vedete bene voi? sì sì ma siete amici amici o amici e amiche no siamo due amici e quattro amiche è presente da immediatamente scusa e stai qui in live ma lei tu qui a prendere per il culo Giorentini e che tra l'altro non è il talento prende per il culo invece di andare con le sue quattro amiche ma perché si avrà già fatto quello che doveva fare no? scusate giusto Andrea Luca è gente che non è abituata non è del mestiere sono la gente così scusate la giornata è fatta di 24 ore io mica perdo il tempo su Instagram 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 dai c'è 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 invertiamo la petizione chi vuole ortelli adesso dobbiamo fare anche quella petizione penso che rimarrai senza firme io firmo ma non è vero io lascio firmare gli altri perché sono sicuro e quindi dico secondo me perde Mergellino Napoli magari sia il sesto posto però non vedo un Napoli che lotta per mi ha appena scritto un Napoli che lotta per la Champions perché scusate ritengo ancora Milan Inter Juve e Roma superiori poi vedo una Lazio e Napoli con la Fiorentina che si lottano per il quinto e sesto posto e un Atalanta dietro che la Sampdoria va bene prima giornata però ragazzi siamo chiari cioè Gasperini mi ha dato per me a livello di progetto per me a livello di progetto il Napoli sta allo stesso punto del Milan lo metto quasi sullo stesso livello livello di progetto però questo possiamo definirlo un anno zero per il Napoli quindi se non dovesse arrivare tra le prime quattro non è lo scato Mergellina per favore che era il primo che buttava merda su De Laurentiis per favore a sedici comunque dobbiamo andare sul Fanta dobbiamo andare sul Fanta dobbiamo andare sul Fanta dica l'ultima Ortelli se la vuole dire ok dai mancava un po' mancava un po' così dai allora andiamo sul Fanta salutiamo Edo no magari vuole non so Edo vedi tu se vuoi rimanere ma io ancora non ho studiato per il Fanta se volete rimanga 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 ah ma perché lo fa anche Edoardo con noi no quello quello del 5 no ah ok però ma chat ciortelli che mi saranno pendicoglione ogni giorno che vuole essere inserito ma non mi avete coinvolto non mi avete coinvolto ma era tre mesi fa ma scusami manfale perché io non so niente ma io ho una squadra o sono con te no tu hai la squadra col tuo vecchio socio con Insuccio si grande allora se volete Luca e Edo vi prendiamo con noi quindi squadra materana tanto ne io posso venire andrei posso venire squadra con voi eh si 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 venite squadra venite squadra con noi vi prendiamo riepiloghiamo riepiloghiamo facciamo chiarezza un attimo piccolo piccolo di serietà così capiamo allora il 5 settembre no ferma un attimo Luca perché qua ci sono dei soldi no infatti facciamo prima la sua cazzata vada Andrea a me va bene tutto primo punto rubiamo rubiamo immobile Faina per forza e non lo scheriamo quello anche 300 crediti Faina spenderà tutti tutti i soldi per immobile ragazzi ragazzi io spero che Damiano non stia guardando immobile ci preghiamo glielo togliamo ma con chi è Faina con Ciccione con chi è Faina per il momento è solo sta scegliendo potrebbe potrebbe essere esposito potrebbe essere esposito su partner ma non è ancora sicuro ma io vorrei Ciccione che fanno la Lazio tipo partner si mettono a litigare e arrivano oppure Faina comunque non sai fare un cazzo va bene andiamo su allora grazie